E' che se non si son volontari, chiamo io, eh? Prof, oggi viene volontario Piero! 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 Eh... ma scusate... Ma che cazzo è Piero? Siamo una maldita! Le fenomeni ci siamo divertiti, eh? Sol'una meno un quarto, ma peccato che da qua non esce nessuno finché io non vi avrò interrogato tutti dal primo all'ultimo perla che c'è in questa classe